Salve a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata. Hai anche schialito la voce? Solo quando ci sono ospiti queste cortesie. Lei mai che mi lascia fare una volta un'introduzione fatta bene, no? No. Sempre a dar fastidio come... Io sono qua per dare il mio apporto e supporto. Altre cose, tipo suppostai quello che da lei solitamente. Dicevamo, questa è Tu, io e Prousto, una trasmissione che parla di libri su Icaro TV e anche su YouTube. Ci trovate praticamente ovunque, ogni settimana, consigli, chiacchiere, recensioni. E come la puntata scorsa, per la gioia di Polazzi, non saremo noi a lavorare questa volta perché non ci sentirete parlare di libri. E' quel format che mi piace di più, quello con l'ospite. Perché lei non ha voglia di far niente. No, perché io sono curioso, io non sono mai stato in grado di scrivere un libro. Quindi poter parlare con chi invece riesce a mettere nero su bianco i suoi pensieri, una storia, mi piace. Ma mamma mia, come è che ha parlato? Allora, lascio fare lei. Presenti l'ospite. No, per tutto presentiamo l'ospite, diamo il bentrovata a Mariana Vitale. Ciao, buonasera. Buon tutto. Buon tutto. Ciao Mariana. E' qua per parlarci di questo suo libro che si intitola Soltanto Giovani. Quindi già io e Rossini siamo fuori dal target. Però insomma, ti chiediamo innanzitutto di raccontarci, per sommi capi, qual è la storia. Anche perché è una storia che tra i protagonisti ha anche la città in cui ci troviamo, quello di Rimini. Sì, Soltanto Giovani è una raccolta di racconti. Sono 12 racconti in cui tutti i protagonisti sono ragazzi adolescenti, alle prese con varie problematiche di questa età. Sullo sfondo c'è sempre la città di Rimini, che è la mia città, e quindi ho voluto rappresentarla in tutte le stagioni. Una particolarità infatti del libro è che è diviso in quattro stagioni. Come se fosse praticamente un racconto per ogni mese. E in questo modo ho rappresentato anche la città, non solo nel suo periodo estivo, quando magari è più conosciuta, ma per tutto l'arco di un anno. I protagonisti sono appunto tutti ragazzi adolescenti, ma tra un racconto e l'altro questi protagonisti ritornano. Quindi anche se i racconti sono autoconclusivi, c'è una sorta di fil rouge che collega tutte queste storie. Quindi qualcuno si conosce, qualcuno si incrocia, sono storie che in qualche modo si incrociano anche tra di loro. Esatto, alcuni sono amici tra di loro, altri magari sono fratello e sorella, eccetera. C'è un contatto. In qualche modo c'è un contatto tra tutte le varie storie. Cosa ti ha ispirato a scrivere proprio una storia? Tu sei giovanissima, poi rispetto a noi. Però, cosa ti ha ispirato a portare in un libro queste storie di ragazzi? Diciamo che io ho sempre avuto un po' la fissazione per le storie di ragazzi adolescenti, un po' probabilmente anche per la mia età. Un po' perché è un'età molto particolare in cui le persone hanno ancora tutta la vita davanti, tutte le possibilità e le porte aperte, ma non se ne rendono conto e tutto quello che ti succede ti scotta in una maniera particolare. Quindi sono a volte dei traumi che ti porti dietro senza neanche rendertene conto in quel momento. E ho visto che quando mi metto a scrivere molto spesso vado a ripescare storie dell'adolescenza che potrebbero essere ispirate alla mia storia personale o a cose che ho visto, sentito o anche no, anche magari inventate, però comunque molto spesso rimango su quell'età lì e quindi ho deciso di approfondirla con appunto 12 diverse tematiche. E come hai deciso a un certo punto di trasformare queste storie in un libro? Il libro è nato fondamentalmente alla scuola Holden che ho frequentato per due anni, che è una scuola di scrittura dove appunto ho sviluppato anche una serie di cose e alla fine dei due anni ho presentato un progetto che per me è stato questo libro e mentre ero proprio lì alla Holden ho iniziato un po' a scavare, diciamo, per cercare le cose che mi stava più a cuore raccontare e quindi da lì è nata proprio l'idea del libro. E come ti vedi come scrittrice? È secondo te un momento della tua vita? Hai in mente di scrivere altro? In realtà io scrivo un po' da sempre, scrivo da quando, principalmente da quando ero in prima superiore, cioè in prima superiore ho iniziato a scrivere libri, però per cui diciamo che è sempre stato un po' il mio obiettivo quello di scrivere. Al momento non sto scrivendo nient'altro, però sicuramente spero che in futuro di continuare. C'è uno scrittore al quale ti ispiri, che ti ha stimolato di più? Brappola, è bella tua vista? In realtà sono tantissimi, però diciamo che mentre scrivevo questo libro, una raccolta di racconti che mi è particolarmente piaciuta è Ragioni per vivere di Amy Hempel, che non conoscevo prima di frequentare la Holden. In realtà leggevo anche pochi racconti prima, ho scoperto questo genere, diciamo, proprio mentre ero lì. E uno dei libri che più mi ha colpito e più mi ha ispirato è stato questo, Ragioni per vivere. Quindi leggevi pochi racconti, però il libro dato alle stampe è un libro che mette insieme dei racconti. Esatto. Quindi è stato un colpo di fulmine quello che era. Sì, diciamo di sì, io avevo già l'idea di scrivere dei racconti, però allo stesso tempo ero anche meno allenata a leggere il genere racconto, leggevo più spesso dei romanzi. E poi quando sono arrivata lì ho iniziato a fare una scorpacciata di racconti, perché poi comunque sono quasi un genere a sé, perché funzionano in maniera diversa rispetto al romanzo. Quindi poi mi sono appassionata ancora di più leggendoli, leggendone tanti. Tra questi racconti, quelli che hai scritto tu, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato, che in qualche modo per te trascina un po' gli altri o rappresenta per te un momento più importante degli altri? Uno dei miei preferiti è Il Corpo, il racconto che si chiama Il Corpo, che è una storia di un'amicizia di due ragazze che vanno al mare insieme, una un pochino più grande, e quindi c'è la scoperta un po' del corpo che cambia, mettendosi in costume, confrontandosi, eccetera. e nel frattempo una delle due ragazze trova un fidanzatino e l'altra comincia, cioè prende una cotta per questo ragazzo, quindi diventa una sorta di triangolo. Sempre pericoloso, come come sa ben polazze insomma. Io? Ah certo, non fa tutto niente. Ed è un racconto in cui sono affezionata, perché nella protagonista ho messo un po' una parte di me, e perché rappresenta comunque un po' le tematiche proprio tipiche dell'adolescenza. Delle dinamiche giovanili. Delle dinamiche, sì, di quell'età. Ti chiedo anche, hai detto, il fil rouge e questi personaggi in qualche modo si conoscono, si incrociano, però c'è anche la città di Rimini. Quanto incide Rimini anche nei racconti? Cioè è effettivamente uno dei protagonisti di questo libro? Diciamo che, allora, questi racconti sì, in alcuni casi diciamo che non avrei potuto ambientarli altrove. Ci sono alcuni in cui la città è proprio uno sfondo e che magari potrebbero essere, potrebbe anche essere tolta, tra virgolette, o ambientati da un'altra parte. Ce ne sono alcuni, soprattutto quelli estivi, dove c'è tanto il mare magari, e ce ne sono altri, ad esempio uno che è ambientato nella colonia bolognese, di questi due ragazzini che vanno a esplorarla di notte, pensando di trovare chissà quali... Abbiamo una colonia abbandonata, lo diciamo per chi non è di Rimini o non lo segua, anche se insomma cerca proprietario da tempo ma ancora non l'ha trovata. Esatto, quindi ad esempio quello è un racconto tipicamente riminese, perché me lo sono immaginato proprio partendo dal luogo. Polazzo. Nel presentarlo, questo romanzo, magari nel parlare con chi l'ha letto, c'è qualche commento, qualche complimento che ti ha colpito particolarmente? Magari qualcuno che ha notato nel libro qualcosa che tu stessa, quando scrivevi, non ti rendevi conto di averci messo? Sì, questo capita sempre, per fortuna. Ad esempio mi ha fatto molto piacere il commento di un'amica che è psicologa, ad esempio, e ha trovato molto azzeccati i racconti dove c'era un problema magari psicologico, dove in uno c'è anche la figura della psicologa, che però io non sono, quindi ho comunque dovuto immaginare, e quindi vuol dire che è stato ben azzeccato. Altri magari hanno apprezzato di più dei racconti che io, che magari sento meno personalmente, però mi hanno detto, ad esempio il lato maschile, che io ovviamente essendo una donna ho dovuto immaginare, e anche per esempio mio fratello mi ha detto ti sono riusciti molto bene i racconti in cui non ti sei immedesimata fino in fondo, però allo stesso tempo hai reso molto bene la figura maschile, quindi sono contenta. Invece la stesura com'è andata? Nel senso, lavori e racconti, buona la prima, ci rimetti molto le mani, ritagli, di solito come scrivi? Allora, scrivo abbastanza di getto, e ovviamente un po' bisogna sempre rimetterci le mani, anche perché molto spesso io quando scrivo ho in mente dei punti, io però poi mi lascio molto trascinare dalla storia dei personaggi, che molto spesso vogliono fare quello che gli pare. Giusto, prendono vita da soli. Quindi magari tu immagini una storia e poi invece i personaggi la portano altrove. Esatto, e quindi a questo punto molto spesso poi alla fine una piccola riscrittura è necessaria per far combaciare un po' tutti i punti del racconto. Questi racconti non li ho scritti tutti di fila, nel senso che essendo appunto racconti magari tra uno e l'altro passavo un po' di tempo, però diciamo che nel complesso ci ho messo un paio d'anni, considerando che in mezzo c'era anche comunque la scuola che stavo frequentando e vari impegni di lavoro. Per ricordare che nel soltanto giovani ci sei anche tu, insomma. Ma se dovessi dare a qualcuno un consiglio per leggerlo questo libro, perché acquistarlo e leggerlo? Io direi che dovrebbero tutti leggerlo per ritrovare un po' la loro, diciamo non tanto il bambino, però l'adolescente che è uno di noi. Noi non abbiamo più le porte davanti, ma un po' dietro. No, sono tutte alle spalle. Per quanto riguarda chi c'è uscito e chi invece magari è adolescente in questo momento, direi per trovare comunque degli amici, sentirsi meno solo. Un'ultima domanda che ti faccio, visto che abbiamo parlato insomma di letture di ragazzi, qual è la colonna sonora di questo libro secondo te? No, questo è troppo difficile. Sempre domande difficili sul fine. Oggi in Polatti mi hai trovato la scena. Allora. Sei arrivata, non stava a dare un po' di tempo. È poco giovanile, però direi Amarcord un po'. Ai suoi tempi, lo sento. Per dare, perché un po' anche la divisione in quattro stagioni, mi sono ispirata ad Amarcord e per dare un po' di atmosfera riminese. Ok. Poi per quanto riguarda la musica più giovanile, diciamo che ognuno secondo me dovrebbe scegliere quella che è più adatta al suo periodo, perché poi io sono degli anni 90, magari chi lo legge adesso... Ma tu hai ascoltato musica mentre scrivevi, perché c'è chi scrive con la musica e chi non ce la fa? Non tanto, non tanto. Allora, ricordiamo, soltanto giovani di Marianna Vitale, ci dicevi anche oltre nelle librerie, si trova anche in ebook tra poco? Tra poco si troverà anche in ebook e negli store online, comunque è ordinabile anche la versione cartace. Editore? A UG Edizioni. Perfetto, non l'avevamo detto, mi sembra... Giusto, è giusto dirlo. Marianna, grazie. Grazie per essere stata con noi. Quando sarai in cima alle classifiche ricordati di noi che saremo sempre qua in questo studio. Complimenti e poi ti aspettiamo, insomma, visto che, come hai accennato, al momento non stai scrivendo, ma l'idea di scrivere ti gira per la testa, ti aspettiamo anche per il prossimo libro. Rossini come personaggio protagonista funzionerebbe, eh? Per una storia horror, probabilmente. No, ma tu fai anche pugilato, sai. Basta, basta, basta. Siamo arrivati in chiusura, cari amici, di questa puntata di Tui e Proust e, che dire, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Lo dico io, alla prossima. Che fastidio. Che fastidio. Grazie a tutti.